Il project financing da oltre 14 milioni di euro del cimitero di Termoli finisce in tribunale. A luglio scorso la giunta Roberti aveva annullato la gara e il relativo affidamento della progettazione e realizzazione delle opere. Dopo un sopralluogo e valutazioni tecniche, l'amministrazione ha ritenuto che le condizioni originarie sulla base delle quali è stata sviluppata la proposta del project financing, il relativo quadro economico e il corrispondente piano economico finanziario sono completamente mutati. In sintesi, nel deliberato c'è scritto che in questi anni diversi fattori sono variati. Innanzitutto gli spazi previsti per l'ampliamento del cimitero non sono più quelli del dicembre 2017, quando il progetto era stato presentato. Non solo, l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione registrato, che risulta essere nell'ordine di circa il 30%, porterebbe significativi aggravi di spesa per l'esecuzione delle opere contemplate nell'appalto e l'amministrazione sostiene di più. Il progetto presentato dal promotore prevede l'applicazione di tariffe, scritto nella delibera di giunta, con importi di formi e talvolta di molto superiori rispetto alle tariffe approvate dal comune. Ovviamente l'associazione di imprese che avrebbe dovuto realizzare le opere non resta a guardare, si oppone. Si è rivolta infatti al Tribunale amministrativo regionale, ha impugnato il provvedimento del comune. La vicenda non si chiude qui. La giunta di Termoli ha così autorizzato la costituzione in giudizio del sindaco.